Ciao ragazzi qui Gabby e benvenuti su questo nuovo episodio Inscription Durante la registrazione il vecchio mi ha offerto uno stranissimo oggetto che mi ha detto di non toccare assolutamente Ma a me piace toccare Quindi oggi ci proveremo e ne vedremo veramente Veramente delle belle Il cacciatore No, 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 no Prima di andare dal cacciatore un attimo Mi sono fatto una fatti caccia per tornare qui Quindi tu aspetti un attimo Allora, intanto Il cane è aperto A cosa cavolo servi tu? Forse posso metterlo qui E lo scogliattolo ha lasciato un coltello? Sei finalmente riuscito a strappare il mio pugnale speciale dalle zampe di quello scogliattolo Eppure desiderai non averlo fatto Che vuol dire? Ho sbloccato qualcosa di strano Tra l'altro mi avete detto che se copio le combinazioni di questo quadro Ricevo premi speciali Il problema è che non ce l'ho quella carta Niente Per il resto siamo costretti a tornare E vi mostro cosa Cosa sono diventato Un mostro sono diventato Fortissimo Però qua Ce la giochiamo tutta Grazie per il fumo Niente fumo Niente fumo Niente arrosto Hai riconosciuto l'aspetto e gli odori familiari delle pelli del cacciatore Ma c'era qualcosa di diverso L'uomo che un tempo amicovolmente ti osservava con uno sguardo di ghiaccio Ora è diventato il cattivone Temo che dovrò scogliare te oggi Eccolo con i coltelli Bene ma sono molto più forte di un tempo Infatti ora il potere dello scogliattolo diga Che mi creerà le dighe fortissimi Tra l'altro c'è una carta speciale che non ho capito cosa fa Vedete è macchiato Ma sembra potente Magari evoca un kraken Speriamo E ho anche l'uomo talpa che è 8 di difesa E costa veramente poco E poi vi parlavo di questa Questo barattolo qui Sono serio Non puoi usarla Non puoi usarla in nessun modo Ma perché? Cos'ha di misterioso qualcosa che ho trovato prima? Per ora lo metterò su quella mensola Il mio consiglio Evitala Ma io voglio Adesso sono curioso Che faccio io? Per adesso mettiamo uno scogliattolo Ok? Ottimo E sapete cosa metterò? L'uomo talpa Che ha 8 di difesa Questo praticamente mi difende da tutti gli attacchi L'uomo talpa è ottimo E per adesso mettiamo dell'innocuissimo fumo Ok Fatemi del male L'uomo talpa tankerà gli attacchi Ottimo Ottimo Ora che facciamo? Continuiamo a pescare un po' di scogliattoli Che servono sempre Mentre sono in difesa Ok? La trappola rimane lì Quindi non c'è problema Continuate a tankarmi Bravi Ora peschiamo un'altra carta La capra nera Ottimo Questa è buona Allora mettiamo la capra nera Non Devo sacrificare qualcuno Mettiamo uno scogliattolo E mettiamo Il topo da soma No Oppure sì Facciamo così Mettiamo un topo da soma Che mi darà Una clessidra Ottimo Per fargli saltare il turno Ok Per adesso Niente Continuiamo ad attaccarlo Così si fa le trappole Bene Ok Peschiamo un'altra carta scogliattolo E per adesso E per adesso le trappole posso usarle a mio vantaggio Le lascio qui E gli attacco solo quelli davanti Così non può usare il lupo Finché non muoiono È una buona idea Userò le sue trappole Metto uno scogliattolo qui E sacrifico una capra nera Per il topo Così non gli faccio del male Ottimo Per adesso va bene così Ok Peschiamo un'altra carta Ora Sacrifichiamo la capra nera Per questo strano coso Che non so cosa faccio Ma ha un potere assurdo Della campana È una cosa segreta e misteriosa Per adesso Niente Andiamo avanti così Ottimo Per adesso mettiamo questo qua E attacchiamo Purtroppo il mio amico morirà Ma potrò mettere L'uomo alfa Che viene ucciso Poretto Ma va bene così Va bene così Ora mettiamo L'uomo alfa qui E attacchiamo La carta qui davanti Ok Peschiamo un'altra carta Rana toro Questa è buona Però verrà ucciso Mettiamo la rana toro qui E attacchiamo E attacchiamo l'altra carta Che evocherà una trappola Devo giocarmela Con le sue carte Ottimo Ottimo Però stiamo andando bene Ora ti faccio fuori la vipera Ottimo Sì Aia maledetto Per adesso metterò Delle dighe Ottimo Così mi difendo Andiamo avanti Attaccami Bene Ora prenderò un'altra carta Il bambino 13 Ottimo Che lo posso usare Per sacrifici ulteriori Per adesso andiamo avanti Uscidimili Ho il lupo Dammi un'altra carta Pelli Sto prendendo Pelli a nastro Fammi un'altra carta Aia Dammi un'altra carta Ermellino Vabbè dai Ce la possiamo ancora fare Fammi uno d'attacco Ora dammi Il cavolo di scoiattolo Ora ti faccio male io Ora ho il mio ermellino Che fa male un casino D'accordo Vai ermellino Attacca Attacco suicida Bottimo Ora continuiamo a pescare Pelli Pelli su Pelli Ora ti frantumo io Ho sfruttato le sue trappole Continuiamo così dai Continuiamo a pescare carte Che ci sono utili E facciamoli uno di danno al colpo Così io continuo a pescare Continuo a pescare Mi faccio il mazzo assurdo Ho scoperto come batterlo Mi sto pescando tutte le carte Oh signore Dammele La cimice Vai così Uno alla volta Mi pesco anche uno scoiattolo Che serve Guarda quante carte Oh 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 Ora stanno diventando umani Quelle carte Vedete Prima Stanno riprendendo la loro forma Ecco perché si stavano trasformando Il cimice E gli altri Interessante Anche quel coltello Voglio capire cosa faccia All'utente Metti un peso sulla bilancia Il dolore è solo temporaneo È come quando mi strappavo i denti Cosa mi strapperò stavolta Il naso Per adesso metteremo uno scoiattolo qua E attacchiamo Continuo a pescare Pelle Pelle su pelli Continuiamo a fargli danno Sì L'ho battuto Arato Che succede Pelle ottimi Ma il ciclo deve continuare No Non barare Non barare stavolta Facciamo affari Affari È cambiato Mi ha dato un sacco di pelli Carte potenti Per questo accetterò solo pelli migliori Scambia quel che puoi Ma sappi che le altre resteranno a combattere per me Oh caspita Oh no Posso prendermi delle carte? Mi posso rubare delle carte? Devo scegliere quelle giuste? Devo usare quelle che sono alate No? Difesa alata Quelle alate Quelle alate sono le migliori Sempre Quindi questo Voltoio tacchino L'antilope Non tanto Quelli che vanno sott'acqua Il cane Non è male Lo squalo va bene Anche il segugio Anche uno che fa male in un colpo Potrebbe essere buono Questa cosa fa? Spazio vuoto Vabbè Prendiamo questa Ma posso Quante posso comprarle? Perché ho un sacco di pelli Boh Prendiamo l'alce maschio Boh Io gliele compro tutte Gliele compro tutte Io avrei scelto diversamente Ma io te le compro tutte Guarda che mazzo Sono immortale Sono più forte del gioco Oh signore Oh signore Oh signore Distrutto proprio Cosa puoi farmi tu? Quella carta non mi piace perché Ha la campanella Vorrei distruggergliela se potessi Che facciamo? Andiamo subito a sacrificare qualcosa No? Sacrifichiamo sti due poretti E facciamogli un malecano Scusa Un malecano gli faccio Vai Vai Ok Iniziamo a ragionare Ora metto lo scogliattolo qui Mi vado a mettere il bambino 13 Che praticamente può essere sacrificato 800 volte Quindi continuiamo a sacrificarlo in continuo Non vale Vabbè ma son fortissimo Cioè lo devasto coretto L'ho devastato Ho battuto il cacciatore Uhuhuhu Battuto Sì Battuto Forse una di queste potrebbe allettarti Oh caspita cos'è Guarda quante carte Perché c'è un fungo qua? Perché è apparso un fungo? Perché continuano ad apparire a funghi vuol dire che ce l'ho già Che è un doppione Bambino 13 è sempre abbastanza interessante Però il dio delle mantidi È una carta che mi è sempre piaciuta Dai la prendo solo perché non ce l'ho Ed è allettante Bene ora posso andare avanti finalmente Gli enigmatici cacciatore e commerciante Bagnavano la neve del loro sangue E tu hai continuato ad avanzare Gli affetti fuori io Riuscì a vedere una luce in lontananza La fine si avvicinava Abbiamo quasi finito il gioco Nani Un momento La casa la casa Ma è questa casa qui Cosa devo scegliere? Aspetta aspetta prima di andare avanti Momento 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 un secondo Dove hai messo il mio coso? C'era un coso? Dove cavolo l'hai messo? Eh? Dove cavolo l'hai messo? Me l'hai rubato? C'era un coso? L'hai messo qua Nella mensola Salve! Ah! Il dolore è insopportabile Anche dopo tutti questi anni Che cosa vuoi? Ho ben poco per cui vivere di questi tempi Cos'è sta roba? Possa quel pugnale trovare il suo bersaglio Devi essere coraggioso Vedere il pescatore perdere Quello si che ha levato il mio dolore Un mio vecchio rivale Quel pescatore Questa volta ho avuto la meglio Ma avrò la mia rivincita Ma chi è sto qua? C'è qualcosa C'è tipo Hulk qui dentro Argargargargargargargargargargargargargargargaronia Sta soffrendo veramente tanto Sta povera bestia qui dentro E non posso aprirla Non posso liberarla E forse è meglio così Avrà un suo senso Forse poi O forse mai Ma siamo nei guai Vabbè andiamo avanti Oh caspiterina Cosa scelgo? Lo zainetto con misteriosi oggetti O il computer? Di oggetti dovrei averne abbastanza Dai A parte che la forbice sarebbe buona Vabbè andiamo qua Andiamo qua e vediamo che succede Il computer La postazione del commerciante era vuota Come segno di rispetto per la strana donna Hai preso solo quello che ti potevi permettere Ok Posso scegliere qualcosa Una carta a caso Prendiamo un lupacchiotto E' sempre buono che si evolve E poi potrei prendere Che ne so Una talpa dai è buona anche quella Ah posso prendere ancora Allora mi prendo un cervo che è buono Ottimo Ok Buone queste carte Ora andiamo Andiamo avanti Vediamo Vediamo I tuoi occhi si sono fissati su quella casetta E sulla sua luce calda Un faro nell'oscurità opprimente della notte Di sicuro Di sicuro questa casetta ha segnato la fine delle tue fatiche Sì Oh Oh E' entrato E' entrato in quella casa Quindi io sono entrato da me stesso Che succede Ma che cosa è diventato Oh Sto gioco è strano Mi sto muovendo Sì Mi sto muovendo E' la casa del ca... Si è Si è mosso qualcuno Oh 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 Sì Cos'è sta roba Posso prendere Si può il toccar A pochi passi dalla casetta Devono includere una carta rara Ok questa potrebbe essere fortunata L'anello Non mi ricordo Non mi ricordo di avere anelli Non posso controllare Allora io l'anello non ce l'ho Forse ho delle carte rare Quella che mi conviene di più è quella delle carte rare Dai proviamo La prova di rarità Abbia inizio Eh la capra nera Non è rara Neanche una carta rara Fallimento E vai a quel paese Lo ripeteremo ancora una volta Ah meno male Ok La prova dei pinnati Per superare la prova Le tre carte pescate Devono includere una carta Con il sicilo acquatico La prova dei veloci Ok La prova delle pelli Per superare le carte pescate Devono includere una carta pelli Boh proviamo quella Dei 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 balene Oh non lo so A caso Io non so Ho tutte carte poche Di ogni tipo Dai Neanche Dai Fallimento E niente Grazie Grazie signora mano Mi avrebbe dato chissà quale Oh 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 Non hai ricevuto alcun dono Così non sarà nemmeno una sfida E dammelo tu allora Ti prego Dammi qualche dono Per favore Oh no Oh no Dai dammi un dono Qualcuno mi dia un dono Donatemi qualcosa Sono entrato nella casa Allora hai una faccia Eccolo lì Hai fatto i tecavodi là fuori E io sbaglio per un'altra partita Sei pronto a giocare Un'altra partita Ma che Ma perché è diventato così Perché è diventato così Spero che tu sia adeguatamente preparato Oh 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 Speriamo Carte molto forti Il fumo Forse un'altra Forse un'altra per essere sicuri Mi da due fumi Tre 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 Si gioca tre candele Oh no Sei un maledetto Non costringermi ad usare il pugnale su di te Oh cavolo Vabbè Lui cos'ha? Ah Una Suomo talpa e un'amalgama Giocare uno scoiattolo al centro Così mi do due dighe Ok poi Potremmo anche mettere il fumo a sinistra Tanto E per adesso non mi gioco nessun'altra carta Abbiamo anche una clessidra per fargli passare il turno Il pugnale prima o poi dovrò usarlo Ok Eccolo là Diventa i boss lui Per adesso fammi pescare scoiattoli Guardalo Cioè è orribile Attacchiamo ora che possiamo Bam Aia Guarda No Che barare però Così bari Così bari Tantissimo Fammi pescare un'altra carta normale Il topo da soma Buono E sai una cosa Tu salterei il tuo turno Guarda 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 Diventa tutti i boss lui Salta il tuo turno Stai buono Ok Per adesso niente Mettiamo Posso mettere qualcosa Mettiamo uno scoiattolo E mettiamo la talpa In difesa Bene Ora aspettiamo Salta il tuo turno Passo Bravo Bravo così Ora fammi pescare un'altra carta normale Oh Serpente a sonagli Questo fa male Ottimo 3 d'attacco Sbam Oh no Che cosa vuoi rubarmi Serpente Sei un maledetto Sei Ok No Sai una cosa Tu ti prenderai un bellissimo scoiattolo Nuovo di zecca Ok Continuiamo ad attaccarlo Bravo Ottimo Aia Che maledetta quella carta Per adesso fammi mettere un altro scoiattolo Con una diga E dovrò Giocarmi il topo da soma Tra poco Oh no Che cavolo di carte ha lì Che schifo di carta Che ti sei preso Fammi mettere un altro scoiattolo Con le sue dighe E ora Posso mettere un topo da soma Un topo da soma Che ti farà subito del male Le sacrifici Bene Un topo da soma Cosa mi ha dato Un topo da soma dovrebbe darmi roba Una capra nera Buono La userò dopo Quelli di lupo Posso rubargli una carta Gli prenderei quasi quasi la vipera Oppure posso prendermi l'uruguay Perché ho la capra Questo farebbe molto danno Beh sai Mi potrebbe tornare utile Prendiamolo Prendiamo un altro scoiattolo E useremo la capra Capra più scoiattolo Mi dovrebbero dare l'uruguay Mettiamo uno scoiattolo più diga qua Sacrifichiamo la capra nera E per la capra nera Metto l'uruguay Sì E lo metto qua l'uruguay Ora sono guai Oh Tancato Distrutto Una candela è andata Sei sopravvissuto avilmente All'assalto delle creature rare Ma la sfida non si è ancora presentata Sono apparsi di anzi a te Tre figure indistinte Nel loro occhi è comparso un guizzo Come riconoscendo un'affinità Accompagnato da un senso di colpa Ti stavano tradendo Oh no Reginaldo e Gabby Per quello ho creato quelle carte straforti No Ma dai Questa è una No se lo sapevo No Se lo sapevo Questa è una male Questa è una male Reginaldo scusami Reginaldo scusami Per fortuna Uno scoiattolo davanti ai Gabby In teoria non può attaccare Quindi ok Ok Allora come siamo messi per adesso Non può attaccarmi Ok Siamo messi bene per adesso Mi rendo un altro scoiattolo E per adesso attacca così Facciamogli un bel po' di male Con questi attacchi Sì lo tanco sempre L'ho fatto bene a prendere gli Uruguay Lo sto distruggendo Che succede? Questa maledetta luna Sì fa il suo effetto Ma non fornisce alcun valore alla mia tavola Mi chiedo L'avevo fatto Si ha auto Si ha Si ha auto fatto una foto Quello sì che ha valore Cos'è? La luna Ha fatto una foto alla luna What? 40 Di difesa E uno d'attacco Vabbè Te la spacco in due Te la spacco in due Non c'è problema Non c'è problema Guarda Pesca una carta Un altro scoiattolo Vai Ok Mettiamo lo scoiattolo E ora Bam La luna La luna Oh 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 Attacca tutti uno Vabbè Non importa Fammi pescare altre carte Oh l'uomo alfa Dai Così potenziamo l'attacco Con l'uomo alfa 30 24 1 2 3 Va bene così Va bene così Stiamo andando più che bene Ti spiezzo in due Luna Ti distruggo Fammi pescare un'altra carta normale Il grizzly Mettiamo un altro scoiattolo Ti spiezzo Guarda Guarda Come si impegna 8 1 Luna Quasi distrutta Luna Quasi distrutta Bam Distrutta Hai davvero distrutto la luna? Suppongo Non resti altro che farmi fuori Sì Forza Ti spiezzo Ti spiezzo Mamma mia se ti spiezzo Mamma mia se ti spiezzo Non scoprirò cosa farà sto pugnale Ma non ora Per adesso ti spacco Oh baby Mamma è stata dura Ma ce l'abbiamo fatta Che battaglia epica Che Diffico Cos'è sta roba? Cosa? 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 Cosa era un filmato della vita reale Di uno che ha detto che l'ho battuto Era la mia reazione Era la mia stessa Che cosa è diventato Sto gioco? Cosa è diventato? Video? Ci sono dei video qui? Ok Vediamo il primo 9 del 15 9 del 15 Hey there card gamers Sono Lucky Carter E questo è un altro pack Opening video Ah Vanno di moda Wow Sì Mamma mia quanto valgono ste carte Magari valgono i milioni Come quelle pokemon Ok ladies and gentlemen I am about to open my first pack Feeling good about this one Sì Che c'è là dentro? Sì Sì Dai che troviamo Charizard Leggendario epico Doppia coda Cosa abbiamo qui? Ok E qual'è? Sono Ma sono quelle del gioco Ok Ok Sono andata un po' veloce Nel prossimo mazzo Sono morbide Molto lisce Piacevoli al tatto Allora andiamo avanti E la carta rare in questo mazzo è Il mastino Non esatto Abbiamo capito una cosa Il tizio di questo gioco Ama le carte Siamo finiti forse nel computer Di un ragazzo Taglierò questa parte Lol Ok Andiamo ancora avanti Vediamo se gioca ancora con le carte Eccolo qua il nostro Eccolo qua il nostro Giocatore fortunato Carte super rare Interessante Ah inscription Ora ho trovato il gioco Inscription quindi il gioco Che abbiamo appena giocato Hanno creato solo un set di queste carte E hanno smesso di stamparle Ok andiamo un po' avanti Ok Mi piacciono i disegni Mago blu Beh non sono proprio uguali Al gioco Il gioco si chiama inscription Comunque Quindi non so come mai Secondo mazzo Ah l'hanno chiuso e riaperto Qua che cosa ha trovato Delle coordinate Ha trovato anche lui Delle coordinate sulla carta Strano Aiuto Ha scoperto un mistero Vabbè Credo che lui forse andrà È nelle vicinanze ha detto E ci vuole andare Ok Qui nelle vicinanze Che sedere E infatti è andato fuori A morire male Bravo Cosa hai trovato? Sono qui Bel blog Adesso mi apre un canale E posto i suoi video E faccio finta di essere uno youtuber E la shovel Immaginate Il successo Allora E qua E qua Errore Ok Dopo è successo un casino E dopo È tornato Visto Ecco perché Dovete sempre portare una batteria di riserva Ah perché gli si è rotta la camera Cioè gli è finita la batteria della camera Andiamo un po' avanti Ci siamo Ora può finalmente scavare Scava scava che ti riscava Scava qui Oh ha trovato qualcosa C'è un tesoro Forse il gioco Forse il gioco che abbiamo appena giocato Scopriamo il mistero Cos'è? Cos'è cavolo è? Un floppy Inscription Infatti ha trovato il gioco Ha trovato il gioco E si chiama Inscription Oh cavolo Ok Quindi questo gioco è maledetto Mi stai dicendo questo è molto eccitato E secondo me vuole giocarlo Infatti abbiamo visto che lo stava giocando Ok Andiamo avanti Allora qua sta comprando un lettore di floppy Dato che ormai non esistono quasi più Su ebay Bravo E ora finalmente che ha comprato tutto Ora può scoprire il gioco Lo mette dentro Inscription Eccolo qua Eccolo qua il gioco Proprio è lo stesso gioco che abbiamo giocato anche noi Una specie di Jumanji Dei giochi per computer Bene Interessante Quindi lui sta giocando il gioco Dopotutto probabilmente questo è lo sviluppatore Va bene Bello Grazie Interrompe la ricerca di video Sì E adesso Che succede? Perché sto registrando? Sono torno Ah sono io in questo punto Non festeggio spesso E raramente concedo doni Ma tu sfidante Tu sei degno Ti prego non trattenerti Dacci dentro Quindi questo gioco è tipo reale Voglio dire è reale reale Nel senso c'è una persona reale che è finita male a causa di questo gioco E magari questa è la sua carne C'è qualcosa che non va Il tuo premio attende Molto bene Vieni con me Non volevo quella torta di carne umana strana Grazie Vieni con me Stai fermo lì? No non di nuovo Perché ho vinto Ho vinto non puoi Dammi la fotocamera Questa volta te la faccio io la foto Ma non va Per favore non essere sciocco Non c'è dentro un rullino Ne avrò bisogno Ah no Tu sfidante sei un campione E io voglio commemorare la tua vittoria Cosa mi hai dato? Prego incidi il tuo nome Gabby Aiuto Ok Gabby 16 bit Non disperare Sei un vincitore Quindi cosa vuol dire Che sei un vincitore Dove mi hai portato? Che mi hai fatto? No non di nuovo da capo Ti prego Tutto ma Non è da capo Ok Cos'è? È il pittore È il maestro Questa è struttura? Dove vanno i campioni Delle carte Finiscono qui Dal tizio paglia Il pugnale Che non ho usato Come mai È lì Come mai è lì Io non ho usato il pugnale Quindi Wow Ah è di nuovo lui L'ultima persona che mi ha sfidato È riuscita a sconfiggermi Un evento raro Vai a chiedere come ha fatto La troverai lì Appeso alla porta Come Ma devo ripartire No Ecco il tuo mazzo Studialo Sì ma ciao cimice Ormai l'ermellino sta diventando una persona E anche il cimice Ma che cavolo No Non di nuovo Non di nuovo Perché Aspetta fammi tornare un attimo indietro Fa un cuore È appeso la parte a chi Gabby 16bit Che ha vinto il gioco E tu blurghi blurghi Ho assistito la sconfitta definitiva di Lenshi Un vero spettacolo Sebbene non sperassi che mi avrebbe dato la libertà Come potrebbe accadere Penso ti servirebbe un asso nella manica Molto speciale Un asso nella manica L'asso nella manica sarà la carta campione vero? Devo trovare Gabby 16bit Mi serve un martello Vedi che qua ci sono degli oggetti Devo prendere questo dannato martello Devo trovare il modo per prendermelo Così avrò la carta più forte del gioco Gabby 16bit Sì È così È così Ripartiremo Ripartiremo da capo E gli farò il sedere E poi scopriremo il mistero Perché ragazzi non è finita qua Ora non è che il gioco ricontinuerà Succederà sicuramente qualcosa Perché c'è una storia sotto Ma per adesso mi fermo qua Nel caso che devo rifarmi tutto tranquilli Vi riassumo io In modo da non renderlo troppo noioso E andremo subito al dunque Beh ragazzi Aspetteremo il prossimo episodio Vi ricordo il link del fumetto di Gabibbo In descrizione Noi ci vediamo A prossimi fantastici avventure video Ciao ragazzi